Musica 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 Buongiorno a tutti ragazzi, come buongiorno sono staff di WWW Let's play fifa.it, la pagina facebook è il nostro sito in descrizione e purtroppo non ci è arrivato Messi record breaker ma ci sono arrivati due grandissimi inform il polpo Pogba con delle caratteristiche spettacolari e la versione second inform di Deghea Deghea già era forte, normale era forte nella sua versione inform e questa versione second inform con 92 di reflex e 91 di tuffo fa veramente paura quindi la player review di Deghea arriverà nei prossimi giorni penso la farà Andri come da tradizione per i portieri e invece il polpo Pogba uscirà domani per le 14 14.30 quindi domani vi voglio qua per vedere la player review di Pogba oggi invece faremo solo una partita perché per motivi di tempo però cercherò comunque di farvi sorridere durante questa partita e speriamo che il polpo ci piazzi 1, 2, 3, 4, 5 6, 17 golletti e vorrei veramente aprire il culo agli avversari per far capire alla EA Sport che se anche non ci hanno dato Messi questo proviamo gli inform lo vinciamo e soprattutto voglio fargli vedere che arriviamo almeno a 500 mi piace veramente mi piacerebbe arrivare a 500 mi piace perché ultimamente con i mi piace stanno un po' calando e allora il team ignoranza team ignoranza molto ignorante quella coppia d'attacco forte ma ignorante come poche perché veramente molto ignorante anche il terzino del portiere dai speriamo che che si vada bene siamo tornati siamo tornati alle origini intanto l'avversario non sta giocando cerchiamo Pogba cerchiamo Pogba pallone alto per Pogba non ci da Pogba allora Ibarbo gliela da gliela da Pogba Keita Keita con la palla ne salta uno si basta Keita che è forte allora la da per Ibarbo di testa Keita Keita con la palla per Ibarbo Ibarbo che mi pare ben avviato e tira il volo mamma mamma se entrava se entrava e iniziava a scorreggiare grande qua Jesus per Keita Keita Balde Keita Balde per gol per Ibarbo che fa gol che forti che forti che siamo corri corri Evans no corri Juan Jesus mamma mia grandi raga Marchisio per Keita uh Keita va 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 vai Keita che lo salti di corsa allungati il pallone allungati il pallone per Ibarbo mamma cosa ha provato a fare Ibarbo se mi faceva quel controllo e poi tirava era tanta 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 roba per Pogba no niente non vogliono darla a Pogba la palla non vuole arrivare a Pogba ne salta due per Ibarbo salta il portiere orca sapevo che succedeva ma mamma mia De Gea prima parata di De Gea ci mette del suo vai Polpo vai Polpo che non vedo la grafica non so se sei tu il Polpo prova il tiro Polpo bene abbiamo fatto un tiro col Polpo e finisce il primo tempo beh dai 9 tiri a 3 abbiamo fatto un po' le fighette però per ora mi pare che abbiamo meritato noi e lo salta con la Verón vai 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 Pogba questa è tua in mezzo cos'è? perché? doveva fare un cross ma è talmente forte che ha provato a fare gol grande Polpo spazza lunga De Gea grande Polpo vai Turbe aspetta che arriva il Polpo niente e Polpo non mi fa i movimenti mi fa i far gol però eh cioè insomma un po' di quel che si dice cazzo bravito eh vabbè 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 ho fatto cioè non sono riuscito a buttarlo via di fisica e poi alla fine è stato un po' difficile anche perché mi ha preso il tempo Pogba è svogliato in sta partita qua provo la botta là fuori però allora neanche quella uh sì no no sì no forse perché dai prova la botta bravissimo Polpo wow wow non me l'aspettavo proprio in vilà cosa ci vai perché gliel'ho fatta alta vai Polpo è tua Polpo tira grande gol del Polpo ed è il Polpo che va a fare gol sì il Polpo che vola mai visto un Polpo che vola non era una skill grande Pogba sapevo che l'avrei al volo al volo Pogba ops stiamo giocando a calcio non è una lotta libera eh vai 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 i barbo in mezzo scusami che ita gol grazie grazie c'eri quasi grande Polpo la pallata cattiva dai piedi del Polpo vabbè merito di prendere gol per queste troiate qua prendi il pallone che adesso recuperi cazzo ti faccio recuperare adesso ti faccio recuperare cambia tutto cambia tutto adesso per Keita Keita al volo Keita vai vai Keita adesso rientrerò e poi faccio un tiro c'ero quasi no dalla indietro al Polpo dalla Polpo al volo al volo no si finisce la partita e finalmente posso andare a cagare visto che è un dal primo minuto che mi scappa la popò andiamo ce l'abbiamo fatta della zona e allora ci siamo riusciti siamo riusciti a vincere quest'unica partita del proviamo gli inform gran gol di Pogba insomma bella botta gran traversa piuttosto di Pogba 1G si è comportato molto bene anche la difesa e De Gea ha fatto quell'unica parata praticamente ma ha fatto veramente una signora parata Pogba mi piace spero veramente di divertirmi ad usare De Gea non l'hanno messo tanto alla prova però quella parata mi ha veramente sorpreso perché pensavo entrasse ma comunque vedremo un attimo cosa ne penserà Andri ricordo domani la play review di Pogba alle 14 penso sabato barra domenica quella di De Gea ci vediamo con i prossimi video e ricordo ancora se riusciamo ad arrivare a 500 mi piace bye bye